Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di FIFA 16 Siamo qui pronti per l'ultima partita del Road to Division 1 ragazzi E ci man... Siamo all'ultima partita E ci mancano solo due punti per vincere il titolo Quindi l'unico risultato disponibile oggi ragazzi per vincere il titolo è la vittoria Per forza la vittoria Ebbene ragazzi Adesso cerchiamo l'avversario che ha appena trovato Vediamo un po' la sua valutazione Valutazione 80 e intesa 66 Ha tutti i oro l'ari Ma non c'è un cacchio di intesa La cosa non è che mi fa rimanere tranquillo il fatto che non abbia intesa Anzi peggio perché In FIFA 16 ho notato anche se non è un cacchio di intesa Puoi vincere senza tanti problemi Oioi bebè 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 Mamma mia tutti sti impati Non me la piglia palla Il colpo di testa Centrale di Sergio Sergio Buschè Sergio Roberto riconquista palla Mamma mia che discevolata È proprio a fare male questa Ho visto Correa Correa ha visto Pebè Dall'altra parte Aspettati Ma dove cazzo l'ha tirata Porco cane Ha distrutto un satellite Da nasa Sergio Buschè Ok ho visto in profondità Correa Vai Correa Corri come se non ci fosse un domani No Dio mio Che go che stava per far sto qui Sergio Roberto porco cane Dunque ragazzi anche se perdiamo Non è un problema Cioè siamo Ecco Siamo già in Sesta divisione in ogni caso Perché La promozione è già ottenuta L'unica cosa che ci manca è il titolo Cosa che non possiamo anche inizi Però se vinciamo è meglio Perché sono più crediti ragazzi Crediti per i pack opening E beh che l'hai visto Ma che Ma cosa vi ci vuole Per fare un passaggio filtrante più forte Vai Correa Correa Dio mio Vai Orban Fermalo Mamma mia Se mi segniamo giovinco di testa Ma Ma che si scherza ragazzi Cioè invece di avvicinare La realtà Ci avviciniamo Alla fantascienza Proprio Ci serve la scala ogni volta Per saltare di testa Giovinco E tira Fudge L'1-0 Andiamo verso la telecamera Mi sento poi verso la telecamera Super Grandissimo Fudge Poi va anche laggato All'unica del tiro Guarda là Ma la cosa importante È l'1-0 Ragazzi Questa è importante Il titolo Ma è mica Enrico Bravo Credici sempre Non muovare mai Vai che hai visto Correa Ma bebe riconquista Paul E va pure a tirar Ma tanto lo trocca Sergio Buschier Oh mio Dio Finta e controfinta Le aveva fatti esaurire tutti Se è follo per me Ma fammi continuare E se lo Va al passaggio di testa Complimenti Ecco 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 Goal della merda Poi un merdoso Cioè proprio Della serie E lì davanti Non è che tipo fa Quadrata R2 No? O quadrato RT Per l'Xbox No Aspetta il giocatore Rallenta E fai goal della merda Goal più merdoso Di questo Non ci poteva essere Vai che hai visto Correa Eh ma perché Non mi selezioni Quell'altro E mi tieni selezionato Bebe Ma spiegamelo Perché Spiegamelo Ho premuto anche L1 Ho premuto Correa Bebe Ma il tuo cazzo E tira Mamma mia Ma lagga Nei momenti In cui Ti vado a fare gola Ma che palle Ha tirato la posizione Correci Correa Il rigore Ah che cazzo Ma perché Non mi ha dato il rigore Perché 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 La domenica Mi lasci sempre sola Per andare A vedere La partita Di pallone Perché Perché Io il Napoli Lo amo più di te Busca E tipo Allo sto Gobus Che Mi si è accoppato Prima Mica Enrico Che buon Signore Che azione Mica Enrico 2-1 All'altatunesimo Giunzionale Signori Dalla che Ma che azione Tutto di primo Vai Hai visto Correa Mandolo Al calcio D'angolo Buonissimo Aspetta 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 Facciamo un po' Come le merdacce Con le vere 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 Proprio Oh mio Dio Sì No Ti ho detto Fai la finta Eeeh E vince il titolo Poi così Abbiamo vinto il titolo Di settima divisione Eeeh 5689 Crediti Bene ragazzi Direi che questo video Del road to division one Può finire qui Adesso siamo in sesta divisione Lasciate un mi piace Ragazzi Per il gol vittoria Di Mica Enrico Eeeh Commentate Aggiungete preferiti E naturalmente ragazzi Iscrivetevi Al mio canale Di SG Video Bella Ciao